Enerix e Damiano è contro calcio Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo Se vuoi chiama noi per legno scalcio mercato Tattica by Ene sembra sacchi più cassano Enerix e Damiano è contro calcio Mi piace sta canzone, mi piace proprio Contro calcio Contro calcio Buonasera amici contro calcisti Buon pomeriggio in realtà perché questo video uscirà alle 14 Barra 14 e 30 Allora like subito No hanno rotto il cazzo con questi like Sono sincero con te Io non so che cosa dobbiamo fare per questi like Viviamo nella società dei like Dovreste likeare tutto quello che apprezzate Se siete in live e ci guardate i video Vuol dire che lo state apprezzando Dunque lasciate questo minchia di like Cioè non ci vuole niente Regà è un pollice, non si paga Non è che stiamo a chiedere abbonamenti Poi vi chiederemo pure quelli chiaramente Ah voglio preannunciare una roba Ieri l'ho detta su Instagram La dico anche qua su YouTube Ho preordinato due eSports FC 2024 Ah li vuoi mettere in palio? No uno lo useremo noi per giocare Faremo dei video dove giochiamo E dove chiaramente perderai sempre Ma lei ha la Playstation 5? Certo che ce l'ho Ok chiaro Giocheremo e ti rovinerò Ricordatevi queste parole Certo E uno lo metterò qui Lo regalerò agli amici contro calcistica Potremmo proprio regalare Ah sai che ti dico Senti che cosa furba che potremmo fare Live solo abbonati In cui diamo il codice Perché c'è la possibilità di fare live Per solo abbonati su YouTube Quindi live solo abbonati Diamo il codice Il primo che lo riscatta c'è il gioco Io invece lo farei Io invece chiederei Che ogni video faccia almeno Almeno 700 like Sì Ogni video e ogni dirette di più Dirette mille Perché se no il gioco non si mette in palio E magari il gioco sarà per tutti Ma lei è veramente una vidone Lei è una persona che pensa soltanto ai soldi E si dovrebbe vergognare Ma mi dica l'argomento di oggi Farina Visto che noi siamo qui per lei Perché è lei che oggi ha detto Che vuole sfogarsi Vuole parlare L'argomento Sì L'argomento di oggi È che mi sono rotto letteralmente il cazzo Che volgare Bippiamo? No assolutamente no Non si può bippare Mi sono stufato Sì Ok Di queste qualificazioni Io adoro la nazionale italiana Aspetta faccio un discorso un po' più sensato Siamo su youtube abbiamo del tempo Fortunatamente Fai il tuo monologo Faccio No monologo Veramente due cose no Allora Io ho sempre pensato Che le qualificazioni Durante la stagione Fossero Una cazzata enorme Perché? Perché può succedere Come è successo ieri A Olivier Giroud Che non si è fatto niente Non siamo qui subito a fare allarghi Ringraziamo Ringraziamo Gesù Cristo Che Giroud Sembra Non si sia fatto nulla Adesso E se Giroud Si fosse fatto male davvero? Per cosa si è fatto male? E poi aspetta Il punto cardine Chi ci rimette? La Francia O il Milan? Chiaramente il Milan Ci rimetterebbe il Milan Quindi la mia proposta Voglio fare una proposta Voglio fare una proposta La riforma Alla FIFA E alla UEFA Anzi a tutti Alla Combe Ball A tutti quelli che organizzano Coppa America Qualificazioni Conca, Caffè Certo A tutti quanti Voglio fare questa proposta Possiamo giocare Le qualificazioni Per un europeo Per la Coppa America Per la Coppa d'Africa Insomma Per il mondiale Per tutte le competizioni Internazionali Quando finisce la stagione E ti spiego Che sarebbe semplicissimo Il girone della Francia Come tutti Quasi gli europei Se vuoi farlo vedere anche Vai su diretta E lo fai vedere Dovrebbero essere Cinque squadre Ogni girone Ok Quindi Si presume Che si possano fare Per ogni Per ogni squadra Quattro partite Chiaramente solo andata Ascoltami bene Quattro partite Solo andata Prima La prima Del girone Vedete Sono tutte a cinque Scozia, Georgia, Norvegia Spagna, Cipro Francia, Olanda Grecia, Irlanda Gimiterra Però sono andata in ritorno E via discorrendo Certo che è andata in ritorno In questo caso Nel caso che dico io Si farebbero Quattro partite sole Quattro In campi neutri Ok In campi neutri Ti trovi? Francia e Olanda Sono molto vicine Come nazione No? Si gioca a Lussemburgo Si gioca A Lussemburgo Francia e Grecia Si gioca in Italia Capito che voglio fare io? Sarebbe una cosa Anche itinerante Per ospitare Partite internazionali In paesi Tra virgolette Che non sono Di proprietà A livello tempistico La tua stagione Quando finisci? Ok Aspetta Finisco In questo caso Quest'anno La stagione Puoi andare a controllare Mi sembra Termini A fine maggio Se non vado errato In teoria Se come tutti gli anni Qui termina No l'altro anno è finito Il 10 giugno Però c'era il mondiale La finale di Champions League 26 maggio 2024 Perfetto Data bellissima per me Il 26 maggio Coppa in faccia Quando te passa E non solo E non solo Dicevo Finisce il 26 maggio Presumo che ci sia La finale di Champions League Si Dopo Giusto? Andiamo a vedere Puoi andare a vedere Quella data per favore? La finale di Champions 23 24 Si giocherà Il primo giugno 2024 Perfetto Quindi finisce La stagione calcistica E cinque giorni Giorni dopo Si gioca subito La Champions Fermati Fermati Finisce il primo giugno Sì Ti trovi? Sì L'otto giugno Sì L'otto Tu inizi le qualificazioni Agli europei Perché mi sembrano Che gli europei Ovviamente non c'è questa cosa qui Che sto dicendo io Mi sembra che gli europei Inizino a fine giugno No Stai facendo un errore gravissimo Perché gli europei iniziano Il 14 giugno Perfetto Si sposta la data Invece di farli iniziare Il 14 giugno Si fanno iniziare il 26 Ma devi slittare anche la data di fine poi Un attimo Un attimo Arrivo Li fai iniziare il 26 giugno Al posto del 14 giugno Ti trovi? Sì Tu dall'8 giugno Dall'8 Attenzione Dall'8 di giugno Al 18 di giugno Fai 4 partite Per girone 4 partite in 10 giorni? Ma perché? I giocatori ne giocano molte di più in 7 No I giocatori non ne giocano molte di più in 7 Eh no Eh no Ti spiego anche perché Perché se tu fai 3 partite in 7 giorni La terza La quarta sarebbe al decimo La quarta sarebbe al decimo chiaramente Perché se tu giochi domenica, mercoledì, domenica, mercoledì Alla fine sono 10 giorni Sì ci sta Sono 10 giorni 4 partite le fanno tutti in 10 giorni Sì Sì Ok Perfetto Detto ciò Non si possono fare 4 partite in 10 giorni? Si fanno 4 partite in 10 giorni Finisce il 18 giugno Finisce Una settimana dopo Inizio europeo Ma tu stai facendo un discorso che potrebbe essere sistemato anche in un altro modo Dal momento in cui Tu non hai le settimane di pausa durante la stagione calcistica A breve la stagione calcistica La fai finire prima E iniziamo prima le qualificazioni europee Io sto dicendo qualora se la vogliano prendere con calma Perché sai benissimo No, sai benissimo che per far finire la stagione così Ci sono anche gli infrasettimanali, no? Tu non giochi gli infrasettimanali Però in ogni caso non si andrebbe così lunghi Anche con gli infrasettimanali Il discorso che faccio io magari è 4 me le giochi alla fine della stagione E mi fai 2 pause nazionali Non 6 come ce ne sono adesso Perché adesso ci stanno tipo 5 pause nazionali Invece farmene 5 Non so d'accordo Me ne fai 2 Durante tutta la stagione La pausa nazionale non deve esistere Durante la stagione Vabbè ma 2 potrebbero pure andare bene No, assolutamente no Non me ne frega un cazzo Al massimo fai una pausa nazionale Di una settimana Per far vedere tutti e per allenarsi Però se questi vogliono giocare per forza 8 partite Ma se poi arriva in nazionale Guardi che devi essere forte Se no in nazionale non ce vai E che cazzo e basta O almeno se non si rischia una forma di tutela Nei confronti dei club Perché non è possibile In NBA i giocatori se vanno a giocare in Italia Se vanno a giocare per l'America E si fanno male Ricevono delle cauzioni multimilionarie Perché nel calcio non succede? Sono d'accordo Ma a prescindere da questo A prescindere da questo Per evitare proprio Che ne so Corsi e ricorsi Le cose eccetera eccetera Fai questa regolina Che ci ho detto io Questo ci può stare Bellissimo Poi Se fa male X In una partita della nazionale E ce li metta la fraccia E ce li metta la fraccia E poi E' capace che se Poverino L'infortunio è grave E' chiaro che ce li mette anche Il club Perché se gioca a giugno E' una stagione inizia a settembre Sperandote no Però Voglio dire Qualsiasi tipo di problema fisico Normale Tipo ecco Girum Si è fatto male La prossima partita con la fraccia Chiaramente non la gioca Però magari giocherà il derby Eh vediamo Perché rischia di saltare anche quello Ho detto Magari Magari giocherà il derby Io me lo auguro Perché sto facendo questa polemica qua Perché adesso Ragazzi miei Con tutto il bene del mondo Girum per il Milan È fondamentale In questo momento Lei sta cercando La leccata di culo Ai milanisti È chiaro Perché ovviamente Ovviamente deve Ha capito eh Il populista l'ha capito Che i milanisti Iniziano a odiarlo E quindi cerca subito Di andarli incontro Assolutamente no Guarda come cerca subito Di conquistarli Allora Se tanto mi da tanto Brutto cretino Io avrei dovuto Esultare Perché è entrato Turam Secondo la tua logica di merda Perché? Giusto? Perché è entrato Turam Dell'Inter Ha pure segnato Ma infatti tu Stavi esultando ieri Secondo la tua logica Secondo la tua logica Io dovrei esultare In questo momento È chiaro Io mi incazzo Perché togliere Giroud Un campione C'è Jovic Guarda avrei accettato Che tu mi avessi disposto Con Okafor Sì ma Okafor Guarda Io sono ormai Calcisticamente innamorato Di Okafor Dopo quello che ha fatto Contro la Roma Io sono Okafor sessuale E sta arrivando La maglia di Okafor Perché l'ho comprata L'ho acquistata E sta arrivando La maglia di Okafor Però allo stesso tempo Jovic Mi sembra più puntazzo Io in realtà Non ce lo vedo Malissimo Jovic Nel Milan di oggi E se Haaland riesce a fare 50 gol nel City Io credo che Jovic 20 nel Milan Possa farli E basta Ma perché Stai raccomando Jovic Con Haaland Ti dico Secondo me Jovic nel City Farebbe più o meno Gli stessi gol di Ma vattene a fanculo Vai a fanculo Vai a fanculo Vai a fanculo Penso così Vai Penso così Che cazzo Senti Ascolta C'è altro? In realtà Non ci sono molte altre notizie Ho sentito Se ti dico così Ma della Liga Scusami Valori Ligan Transfer Market Perché se no Poi veramente Parliamo a zero Andiamo a vedere La Ligan I valori di mercato La Ligan Ha un valore di mercato Di 3,5 52 miliardi Di euro Ok La somma di tutte le squadre La Ligan Ha questo valore Valore Lega Araba Transfer Market Transfer Market Andiamo a vedere Transfer Market Saudi Pro League La Saudi Pro League Ha un valore di Un miliardo E ho 18 Che non è Che non è poco Perché è cresciuto È cresciuto No 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 È cresciuto tantissimo Però non c'è paragone Guarda la Ligan E guarda la Ligan C'ha tre volte Il valore di mercato Della Saudi League Eppure è anche Un campionato Che è strutturato Da anni Ho sbaglio Chiaro Ma se tu mi parli Dei giocatori top È chiaro Che ci sono più fenomeni In Saudi Pro League Che in Ligan Ad oggi Perché è così Assolutamente Però a livello medio È molto più basso Quello è il discorso Allora Allora Sarò sempre più convinto Ma guarda Io ho messo un video Su Twitter L'altro giorno Di Del gioco Dell'Al Nasdre Io credo Che l'Al Nasdre In tutta onestà Se lo prendi E lo porti In Bundesliga Sì Arriva quarto Che ciavatte L'Al Nasdre Forse sì Ma anche in Ligan Arriva quarto Con le sciavatte Proprio In Ligan Se ci porti Lali lal Se ci porti Lali lal In Ligan Arriva Se la lotta Con Paris Scudetto Lotta per lo scudetto Tutta la stagione Non scherziamo Ragazzi Sono abbastanza d'accordo E tra l'altro Sto constatando Una cosa Che non pensavo In Italia Non lo so Perché l'Italia È molto più forte Sti Ricordi il dibattito Saudi League MLS Sì Questo è il valore Della Saudi League Questo è il valore Dell'MLS Occhio Perché stiamo arrivando Pepsi Lionel Pepsi Stiamo arrivando Stai attento Perché poi non potrai Neanche più dire Che il livello È più forte Della Major League Porta rispetto a Messi Hai sentito che ha detto Sentito che cosa ha detto Ronaldo Sì Chi ama me Non deve odiare Messi Ma io non amo Ronaldo E non odio Messi Semplicemente mi stanno sul cazzo I fan di Messi E mi stanno sul cazzo I fan di Ronaldo Perché sono Lei è un coglione È fan Lei è fan De chi è fan De Saponara Salutiamo Riccardo Ma saluta Riccardo Ma è un grandissimo giocatore No salutiamo Riccardo Però Paragonare a Saponara Insomma Sti due Mi sembra un po' Troppo eccessivo Ma almeno La fanbase di Saponara Non è tossica Quindi viva Saponara Porta rispetto Cretino Tu sei il perfetto esempio Del fan di Ronaldo Cioè tu sei un cretino Tu sei un cretino Che non riesce ad accettare Quello che sta succedendo Nel calcio per Ronaldo E che continua a dire Che Ronaldo sia un fenomeno C'è il miglior 250 gol in carriera Vabbè Non voglio aprire Non voglio aprire Non voglio aprire Discorsi già fatti E rifatti Detto ciò Appuntamento per oggi Lo vogliamo dire Che ci sarà Non diciamo tutto No 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 Lo diciamo Dovete guardare le nostre storie Ci sarà il derby Chiaramente Con un fenomeno Però Però Con un super ospite Ci vediamo stasera Ragazzi Occhio 18 Enerex e Damiano È controcaccio Senti che ti dico Meglio Ciro che Ronaldo Se vuoi chiama a noi Per le news calcio mercato Tattica by N Sembra sacchi più Cassano Enerex e Damiano È controcaccio Senti che ti dico Meglio Ciro che Ronaldo Se vuoi chiama a noi Per le news calcio mercato Tattica by N Sembra sacchi più Cassano Ciao